Nel corso della mattina di ieri, i militari della compagnia Carabinieri di Torre Annunziata del reparto Carabinieri Parco di San Sebastiano a Vesuvio hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari personale emesse dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta dalla locale procura della Repubblica, direzione distrettore antimafia, nei confronti di nove persone che avevano iniziati in ordine al reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Contestualmente il giudice ha disposto il sequestro della sede dell'impresa interessata nonché di due impianti di trattamento dei rifiuti, di sette autocarri e di due pale meccaniche, tutti di proprietà della ditta, verosimilmente utilizzati per la commissione del reato contestato. L'attività di indagine condotta dai Carabinieri della stazione di Ottaviano con il supporto specialistico dei Carabinieri forestali della stazione Parco di Ottaviano sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Nola e della Procura della Repubblica DDA di Napoli è cominciata nel mese di gennaio 2021 a seguito di verifiche effettuate su di un'impresa di smaltimento rifiuti operanti in alcuni comuni vesuviani. I controlli dei militari facevano emergere la presenza di tre siti di sversamento illecito di fanghi derivanti dal dragaggio di alcuni canali del reticolo idrografico del fiume Sarno, rio Sguazzatorio e rio Bottaro, dove i rifiuti in questione venivano trasportati, sversati senza alcuna autorizzazione e senza il previsto trattamento. Nei mesi successivi si raccoglievano numerosi elementi di prova in ordine alla presenza di un collaudato sistema di dismissione di vari rifiuti speciali e rifiuti pericolosi, rifiuti di lavori ediglie stradali, cartongesso, guaine bituminose, fresato d'asfalto, amianto e terra e rocce da scavo, con il metodo del CG Girobolla, ovvero la falsificazione dei documenti di trasporto, tramite i quali gli scarti sarebbero stati declassificati ad arte e a rifiuti non pericolosi, abbattendo conseguentemente i costi di trattamento e smaltimento, consentendo di ottenere pertanto centinaia di migliaia di euro in profitti illeciti per l'impresa. In pochi mesi decine di migliaia di tonnellate di rifiuti sarebbero state pertanto sotterrate senza alcuna cautela in terreni agricoli, noccioleti e frutteti, non idonea la messa in riserva allo stoccaggio. Uno dei siti di interramento ricade addirittura all'interno del territorio dell'area protetta del Parco Nazionale del Vesuvio. In questi luoghi di sversamento venivano campionate con il supporto di ARPA Campania numerose sostanze fortemente inquinanti, capaci di ranneggiare e deteriorare gravemente la matrice suolo e l'ambiente, tra cui amianto, idrocarburi e IPA. Due dei siti monitorati venivano sottoposti a sequestro a seguito dei citati accessi ispettivi. Ulteriori risconti sull'attività in parola venivano effettuati tramite l'acquisizione di documenti e l'analisi dei filmati di videosorveglianza disponibili. Due degli indagati destinatari al provvedimento sono stati sottoposti alla custodia cautelare in carcere, tre degli indagati sono stati distretti i regimi di arresti domiciliari e per i restanti quattro è stato disposto l'obbligo di presentazione della polizia giudiziaria.